Il governo ha cambiato la manovra, con colpi di mano, la sensazione è un'enorme confusione e a questa confusione si aggiunge poi il fatto che il governo nega al Parlamento la possibilità di dire la sua, è molto grave, io mi permetto di dire che la vera manovra che bisognerebbe e di mettersi. È un'asta di forza? Spergorda! 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 Spergordata! disturbarmi il nostro dibattito risolveranno il problema del lavoro precario dell'anno e quindi vorrei francamente che non avessero dubbi soltanto ogni auspicio che si possa trovare una soluzione nell'accordo con l'azienda e se ci lasciano fare il dibattito tranquillamente forse è meglio anche dal punto di vista della soluzione dei loro problemi grazie